Da 50 anni di esperienza a stil bagno nasce Camer. Cresce la cooperativa Viti Vinicola di Montagna, poi giri dente e ponchiera e incontra sempre più soddisfazione dai soci. Sotto la guida del presidente Roberto Ruttico, il fatturato è aumentato del 60% rispetto all'anno 2017, sfiora i 2 milioni di euro. Numeri che certificano un risultato di esercizio positivo nel bilancio 2018, presentato all'Assemblea dei Soci lo scorso 18 aprile. Premiate dunque con ottimi risultati le scelte strategiche e amministrative. Pronta ad intercettare i bisogni dei clienti, grazie ad investimenti mirati, la cooperativa offre servizi attenti e puntuali, promuovendo trattamenti fitosanitari mirati con impegno costante verso la ricerca. La cooperativa garantisce assistenza su 50 ettari di vigneti terrazzati e sulla cura del verde pubblico. In crescita anche la superficie dei vigneti, gestiti con sistema biologico, grazie alle capacità sviluppate dai tecnici e dal personale operativo, nella gestione organizzativa e nella tempestività di intervento, in un ambito particolare, quale quello bio, è il ruolo chiave della cooperativa, nell'affiancare cantine e viticoltori, nel segno di un'agricoltura sempre più sostenibile. Nel futuro sono in cantiere nuovi progetti, volte alla specializzazione anche nel settore zootecnico, oltre a un sempre maggiore sviluppo nell'assistenza, in ambito frutticolo e vitivinicolo. Tra gli obiettivi anche investimenti per personale, sempre più qualificato, anche se la competenza non manca neppure ora, e viene rimarcata con soddisfazione dal presidente Ruttico, in una nota stampa. Oggi abbiamo 30 persone, 15 per la gestione dei vigneti del verde, pubblico, 6 agronomi, tra i quali l'enologo Alessandro Camerpesci, e uno staff giovane e aggiornato, che fornisce assistenza tecnica e consulenza, nella cessione di prodotti fitosanitari. E poi la frutticoltura, settore nel quale l'attività si è focalizzata sull'installazione delle reti per la protezione dagli insetti dannosi, per meno i piccoli frutti che aiutano gli agricoltori a non utilizzare insetticidi. Fra le novità inoltre, il rinnovo della struttura di via Sant'Antonio Montagna, con l'inserimento di una serra ablio-climatica, atta a garantire temperature costante per piante e fiori, e di nuovi spazi dedicati ai mangimi, che in futuro vedranno ulteriore sviluppo. Grazie a tutti.